Due persone arrestate e circa 3 kg di droga sequestrati tra cocaina, hashish ed eroina. E' il bilancio dell'operazione eseguita nelle ultime ore dagli agenti del commissariato di San Severo nel quartiere periferico di San Bernardino. In carcere sono finiti due uomini di 32 e 59 anni già noti alle forze dell'ordine. Le manette sono scattate nel corso di un servizio di controllo eseguito dalla polizia nel rione popolare, dove già in passato sono stati documentati diversi episodi di vendita di stupefacenti. A scoprire quello che era a tutti gli effetti un vero e proprio supermarket della droga, è stato un cane dell'unità cinofile della questura di Bari, attirato grazie al suo fiuto in un locale utilizzato dal 59enne. All'interno gli agenti hanno trovato 740 grammi di eroina e 350 di cocaina, ma non è tutto. La perquisizione è stata poi estesa ad un piccolo box attiguo, questa volta in uso al 32enne, dove sono stati rinvenuti tre pannetti sigillati da 500 grammi l'uno, tutti contenenti eroina. L'ultima scoperta è stata fatta in un fabbricato poco distante. Rovistando in un sottotetto, i poliziotti hanno recuperato altra droga pronta per essere venduta, in particolare 100 grammi di hashish e 50 di eroina. Condotti in commissariato per accertamenti, per i due pusher è scattato l'arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Per entrambi si sono aperte le porte del carcere di Melfi.